Elia, adesso lo puoi dire con cognizione di causa, com'è allenarsi con Rado Stoic? Stavo aspettando questa domanda, sicuramente è un grandissimo allenatore, sa bene quello che vuole da noi e mi ha fatto ovviamente una buonissima impressione, ma non sono io certo quello che deve giudicare il suo lavoro. È una fase di stagione in cui magari è più il lavoro fisico e il lavoro tattico, si può ovviamente fare meno 6 contro 6 è anche una fase abbastanza lunga, ci manca molto il campionato, la Supercoppa e il primo impegno. Sì, abbiamo tempo per fare le cose con calma, abbiamo tempo per lavorare bene, lo stiamo facendo e sono davvero contento perché come stiamo lavorando in palestra, tutta la squadra sta lavorando forte e il nostro preparatore ci sta mettendo alla prova un bel po'. Senti, in campionato durante la stagione ti giocherai il posto con Daniele Mazzone che adesso è in nazionale speri un giorno di potertelo giocare anche in azzurro il posto con Daniele Mazzone? Sperare è lecito, io sono qua al Palapanini per aiutare la squadra a vincere tutte le domeniche e voglio farlo dove deciderà il coach, spero di conquistarmi presto la sua fiducia, la fiducia della squadra e ovviamente del palazzo. Hai sentito gli altri tuoi ex compagni di squadra, Bruno, Ngapet, quelli che sono in giro per l'Europa e per il mondo e con le proprie nazionali? Sì, sì, li ho già sentiti, stanno lavorando, hanno avuto qualche giorno per recuperare e adesso si stanno preparando ai loro impegni. Cosa ti aspetti poi, infine, almeno l'ultima domanda per me, dal Palapanini quest'anno stiamo abbattendo ogni record di abbonamento? Sì, sicuramente, è sempre magico, il palazzetto è unico nel suo genere, Modena è unica e i suoi tifosi lo sono, quindi sarà uno spettacolo sempre. Abbiamo già preparato bene i nuovi arrivi, gli stiamo spiegando a parole, stiamo provando a spiegargli quello che sarà il Palapanini, ma se ne renderanno conto anche loro. Sei stato via un anno, è cambiato abbastanza però in quest'estate e nel corso della stagione in cui sei stato a Ravenna? Sì, sono stato via un anno e adesso rientro per questo progetto, molto ambizioso, con un sacco di campioni e sono veramente contento di farne parte e voglio dare tutto quello che ho per riuscire a fare il meglio possibile di questa stagione. Sei un giovane in questo periodo però ti stai allenando con tanti, ancora più giovani di te, tanti giovanissimi, com'è il rapporto che si sta creando e magari se gli dai anche qualche consiglio dopo quello che è stato il tuo primo vero anno da protagonista? Allora, dare consigli non è mai facile, sicuramente si può dare il buon esempio, io cerco di fare del mio meglio e per quel che posso faccio questo.